Alvia la nuova partnership tra Confartigianato Imprese Rezzo e Officina Agile. La collaborazione tra le due realtà aretine è volta a portare alle oltre 5.000 aziende associate i benefici dell'innovazione tecnologica per dare loro maggiori opportunità di crescita e supportarle nei loro progetti. È un momento importante, è importante il momento anche per l'imprenditore che è davvero in difficoltà. Si viene dal Covid, dalla guerra, dall'energia, c'è bisogno di aiutare l'imprenditore a leggere i dati della propria azienda in maniera semplice, veloce ed immediata e questo vuol fare Confartigianato con i propri migliori professionisti aiutato dagli strumenti di Officina Agile che sono freschi, giovani e veloci. L'obiettivo appunto è quello di stare a fianco dell'imprenditore per semplificargli la vita. Questa collaborazione è la testimonianza che il mondo del lavoro è sempre in evoluzione? Assolutamente sì e soprattutto ha bisogno di strumenti moderni ed efficaci per concentrare le professionalità e le risorse sull'analisi e sulla consulenza, non sulla raccolta dei dati piuttosto che sulla messa a disposizione delle scartoffie. Utilizzeremo i software proposti da Officina Agile che tra l'altro utilizziamo anche nelle nostre strutture, all'interno delle nostre società e attraverso questi potremo elaborare i dati per mettere a disposizione degli imprenditori elementi di valutazione molto semplici ed estremamente chiari perché l'imprenditore possa ricoprire di nuovo il ruolo di manager della propria impresa e non continuare a delegarlo per la difficoltà a certe volte di decodificare i dati stessi. Il digitale rappresenta la strada per ottimizzare i processi e aiutare le imprese a mantenere la propria competitività in un mercato in continua evoluzione. Noi siamo molto felici di avviare questo percorso insieme a Confartigianato. Confartigianato mette a disposizione tutta la loro storia, la loro esperienza e un team di eccellenti professionisti per le PMI del territorio. Con Officina Agile e le start-up che ne fanno parte, noi speriamo di mettere a disposizione nuove soluzioni digitali per accompagnare le imprese nel processo di digital evolution. oggi fondamentale per guardare al futuro. Digitalizzazione, sostenibilità e finanza agevolata, questi sono i pilastri di una collaborazione grazie alla quale alle imprese aretine verrà resa disponibile l'offerta di soluzioni da parte di Agile, Change Capital e Rewind. Ed è fondamentale questo tipo di collaborazione con un'associazione così importante come Confartigianato nel nostro territorio, perché in questo modo riusciamo a portare le nostre soluzioni digitali e innovative a una grande platea di imprenditori della nostra provincia.